ragazzi ci siamo buon pomeriggio a tutti games village talk appuntamento settimanale dalle 16 alle 17 un'ora intensa di videogiochi e di divulgazione videoludica scientifica e tutto il resto dato da questi bellissimi volti che siamo noi ciao mattia ciao ragazzi e ciao ed un marco lucio molto cambiato anche nel nome quindi ciao alessandro ciao domenico e oggi marco è morto la febbre attenzione no 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 c'è ovvio sì sì arriveranno dei fiori che non sappiamo cosa farcene tanto fra due giorni risuscita sì 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 però abbiamo trovato un degno sostituto quindi comunque riusciremo sicuramente ad andare avanti ragazzi facciamo un segno alla croce no games village talk ragazzi come ho detto nelle 16 17 oggi argomenti molto frizzanti saluto anche la chat e saluto anche gli utenti di youtube i spettatori di youtube perché questa diretta andrà anche su youtube ovviamente indifferita quindi il voto lo vedrete credo lunedì perché lo carichiamo sempre ogni lunedì oggi grandissimi argomenti argomenti molto interessanti alcuni anche molto critici intanto chiedere alla regia di far partire il nostro primo argomento parleremo del developer di ieri quindi l'evento di microsoft tenuto ieri a freddo perché ieri abbiamo parlato a caldo oggi invece con una nottata sulle spalle una nottata di riflessione ragazzi possiamo finalmente tirare le somme su quello che sarà parte del 2024 di microsoft ricordiamo che ieri microsoft ha proposto a world ora lo chiamano sempre così a world hellblade 2 ha proposto ovviamente uno dei titoli più attesi che era indiana jones e l'antico cerchio questo è il nome in italiano e anche ara quindi comunque ci sono stati dei titoli ma ok analizzando tutta la situazione adesso io vi porrò delle domande alcune molto scomode in realtà una domanda me l'ha suggerita o me l'ha suggerita alessandro con una delle sue citazioni che ha fatto ieri una sua frase potrebbe trattarsi di un evento un po diciamo monotematico e destinato solamente a una parte di spettatore una parte di utenza e quindi altri utenti con diciamo genere di videoludici differenti sono rimasti un po delusi chiedo subito ad alessandro come rispondo a questa domanda sì cioè il discorso è che microsoft ha una line up che sulla carta è potenzialmente spaventosa cioè nel senso ci sono tanti giochi che sono in sviluppo tanti che non conosciamo ancora tanti progetti che non esistono non è stato ad esempio contraband mi viene in mente quello di avalash che ho dimostrato due anni fa tre anni fa ormai credo e il concetto di fare questi questi show perché io poi prendo sempre paragone quelli magari nintendo playstation e lì c'è un carnet di giochi che è in grado di andare a soddisfare più più utenti possibili qua invece la scelta era un po' ristretta e ma lo era anche lo scorso anno in realtà comunque c'erano quattro cinque giochi qui il problema adesso è capire se l'impostazione del format è questa oppure se microsoft stia cercando di suddividere nella maniera migliore tutte le presentazioni che fa nel corso dell'anno e io spero fortemente che sia solamente un discorso di scelta cioè gli altri giochi non sono ancora non sono stato pronto per essere dimostrato così quindi per me c'è sì che questi questo show spacca un po spacca un po tutto perché c'è sempre un po quel rischio di avere persone che sono contente altre persone che non lo sono perché c'è una qualità non una qualità una una scelta di che è molto ristretta ce ne arrivi a mostrare quattro sono quattro test parti lo sai però ci siamo sono quattro test parti però secondo me sono un po limitati in termini di generi mattia che cosa ne pensi di tuo punto allora diciamo che nel complesso a me lo show di ieri è piaciuto ok però volevo anche denotare una secondo me un problema per quanto riguarda 2024 perché secondo me microsoft ha un problema perché adesso ci stavo riflettendo cioè tutti questi giochi che dovrebbero uscire nel 2024 cioè come li fai uscire a ridosso diciamo l'uno dall'altro perché a maggio abbiamo hellblade ad autunno abbiamo avowed se e ripeto se indiana jones uscirà nell'effettivo 2024 dove me lo metti un'uscita così importante e questo diciamo secondo me è anche uno dei dei problemi seppur ripeto lo show è stato secondo me anche abbastanza abbastanza buono in termini di contenuti poi è chiaro che come ha detto alessandro ovviamente cioè diciamo che questo developer direct ha mostrato un rpg appunto che avowed di obsidian un rts un diciamo story driven barra action che lì è il blade e poi cos'era indiana jones appunto che sempre comunque story driven ma comunque fps con sì con delle sezioni diciamo da fps ma diciamo più lo collocherei più come gioco action barra stealth da quello da quello che si è visto quindi secondo me più che altro il problema è anche come microsoft voglia gestire le sue future uscite nel corso dell'anno poi comunque c'è da aspettare anche il lo showcase che terranno a giugno perché voglio vedere più che altro cosa diciamo perché lì arriverà diciamo la ciccia da parte degli studi first party ma più che altro diciamo il problema c'è l'unico problema secondo me di microsoft attualmente è come hanno intenzione di gestire tutte le varie uscite dei titoli di first party secondo me perché poi ripeto far uscire tutti questi titoli a ridosso l'uno dall'altro secondo me non dico che è una mossa poco saggia ma è una mossa alquanto discutibile ecco diciamo allora mattia io voglio però sottolinearti una cosa l'anno scorso cosa abbiamo a cosa abbiamo assistito che star feed è uscito a settembre mentre forza è uscito comunque nel periodo adunnale quindi loro possono fare la stessa cosa far uscire o avuto o o comunque indiana jones nel periodo di settembre per novembre a distanza di due mesi fanno uscire l'altro gioco io voglio ricordare che a mio avviso nonostante e bethesda si è entrato xbox game studios secondo me un po di potere decisionale lo ha cioè io non ci vedo nulla di stanno nel far uscire a settembre uno dei due titoli e ottobre novembre l'altro detratto dei quattro titoli mostrati che nessuno ricorda ne sono solamente quattro ne sono una decina sono quattro titoli abbiamo una data d'uscita che è quella di elbe ed è posizionata a maggio abbiamo avuto che comunque esce nel periodo di autunnale e ci sono altri due titoli ara che secondo me lo possono comunque piazzare giugno luglio agosto non credo che vada in conflitto con il blade mentre ripetiamo indiana jones per me possono fare settembre indiana jones ciao tu marello award settembre indiana jones e novembre award il problema secondo me di microsoft è differente non è tanto nelle pubblicazioni perché secondo me più roba esce meglio ricordiamo che comunque c'è pure call of duty che uscirà a novembre call of duty comunque adesso è roba di microsoft quindi microsoft diventa anche editore in questo caso cioè non credo che si fanno problemi nel cambiare il mese d'uscita di call of duty cioè il problema è un altro che noi assistendo all'evento di ieri che cosa abbiamo notato abbiamo notato innanzitutto che ci sono stati award che comunque è un titolo che non va a piazzare nulla di nuovo sì è il classico titolo di obsidian ma a mio avviso è roba già vista cioè un titolo del genere tra l'altro hanno esaltato anche diciamo i colori la grafica e quant'altro cioè come ho detto io in alcune occasioni se vado a vedere se ho tibes per me non è nulla di nuovo indiana jones tutti si aspettavano il contro cioè il gioco che andasse contro uncharted ma una volta che è stato annunciato il sviluppo da machine games era comunque prevedibile che fosse un titolo in prima persona quindi comunque chi si aspettava da machine games che comunque sono collaudati con gli fps cioè i titoli wolfsten sono comunque dei titoli clamorosi un titolo in terza persona cioè scendeva dalle nuvole scendeva il ciuccio che vuole in cielo la stessa cosa è per indiana jones mi soffrivo su indiana jones e poi tra poco ne parliamo più nel dettaglio se vi aspettavate il titolo alla wolfsten con harrison ford con indiana jones siamo tutti fuori star c'è indiana jones non è mai stato un titolo cacciarone in termini disparatori e quant'altro quindi era impossibile aspettarsi wolfsten in versione indiana jones hellblade c'è stato una stupida diciamo da parte degli utenti uno stupido dibattito il gioco durerà 7-9 ore sarà soltanto in digitale prezzo budget ok comunque hellblade è un titolo first party di microsoft magari non è neanche triple a magari sarà un doppia con un budget più alto rispetto al primo la longevità di un gioco non è mai stata determinante al fine di un attimo solo ma ti è poi concludo al fine di tranne la qualità oppure comunque giudizio sul gioco quindi possono essere anche 9 ore intense ripeto però cioè comunque un titolo a prezzo budget non è che ti fanno pagare 80 euro un titolo che poi tu giochi sono 20 ore perché sono solo 29 tra l'altro è su game pass quindi cioè alla fine gli utenti game pass non lo pagano neppure c'è la lamentera dove può essere però la lamentera perdona un attimo di tutta la line up mi sta ieri tutta la line up mi sta ieri il tiro più convincente è hellblade e se hellblade è comunque un titolo che ha destra qualche prepensità da parte degli utenti è il mio gioco allora forse ieri c'è stato più di un problema durante il direct e tra poco entriamo nel dettaglio ma fun fact hellblade dura più della campagna di call of duty modern warfare 3 no niente non lo so io non ho giocato la campagna di call of duty io credo che la gente comunque non giochi call of duty per la campagna io sì domenico l'ha vista anche in live ha detto già finito tra l'altro Mattia fece una maratona di 6 ore dopo 4 ore fino al maratona e mo io che cavolo ne sapevo che durasse così poco ho detto 6 ore diciamo è il canone standard della durata delle campagne di code quindi io non voglio non voglio allontanarmi cioè call of duty ci ho giocato domenica domenica sera mi sembro sabato non ricordo più e mi ha ammazzato Nicki Minaj cioè nel senso non è più oramai un gioco vero cioè è una sorta di multiverso dove buttano dentro tutto di più e il loro focus è su quello però domenico è sollevato sono di cune infatti domenico ha sollevato un punto interessante che magari non può permettersi di sistemare tutto dove vuole perché è vera questa cosa ad esempio con Starfield Bethesda piena libertà decisionale addirittura Phil Spencer non ha mai e poi mai obbligato Bethesda a rilasciare i suoi giochi prima di subito con Redfall ad esempio ma lo stesso capiterà per noi un attimo con Activision Blizzard si annunciano un nuovo Spyro e dicono quelli di Activision noi vogliamo farlo uscire anche anche questo gioco a maggio facciamo un esempio non credo che Microsoft si opporrà cioè magari dicono spostiamola a giugno perché magari a maggio mettiamo tutta l'attenzione su e il Blade e Pagino c'è uscito questo gioco ma comunque se loro dicono vogliamo farlo uscire a maggio a maggio esce cioè per me Microsoft non deve crearsi questo problema di pubblicazioni a differenza magari di Sony che hanno deciso di far uscire due o tre titoli in cruce first party allora dicono uno lo mettiamo nella prima metà dell'anno uno lo mettiamo nella seconda metà dell'anno però ad esempio Sony ha avuto Last of Us a gennaio tra l'altro è uscito oggi e a febbraio di Piazza Eldivers quindi comunque neanche loro si creano problemi adesso vi ne parliamo di una remastered con contenuti aggiuntivi e di un titolo minore però secondo me Microsoft deve benedire le pubblicazioni anzi più pubblicazioni escono più comunque i droidi ci sono ma infatti no ma io su cui sono d'accordo Microsoft non obbliga mai nessuno pubblicare la roba anzi Spencer dice sempre che va pubblicata quando è pronta secondo me quello che sfugge però è che ieri dei quattro giochi mostrati solo due sono sicuri di uscire quest'anno sono ARA ed Hellblade perché io Stavaudo ancora ho di dubbi che eschiano tu un 80% buone mi tengo un 20% di dubbio Mediana Jones con un rinvio e per te lo rinvio? no ma sicuramente lo rinvio sicuramente lo rinvio sicuramente ma te lo dico perché se davvero Todd Howard ci sta lavorando sopra non so quanto abbia influito lo sviluppo di Starfield non so fino a quanto Todd Howard abbia messo le mani su Starfield per quanto tempo poi magari nel 2021 ho detto no ma basta il mio lavoro su Starfield è finito può assegnare a Jones non credo però che sia un rinvio per me quel giocoglio è un rinvio che avrebbe il 2095 come sarà un rinvio al 2025? sicuramente lo sai perché? perché noi ricordiamo anche Stalker 2 abbiamo Stalker 2 che è stato rinviato ma io non credo che Stalker 2 venga rinviato ulteriormente al 2025 Stalker 2 esce nello stesso periodo in cui escono in cui esce quindi comunque anche lui esce nel periodo autunnale cioè per me invece Indiana Jones hanno detto un 0-0-2024 in modo da capire dove piazzarlo quindi quelli di Benesta magari vogliono capire loro dove piazzare il gioco magari il gioco in realtà è pronto Ale magari il gioco in realtà bisogna solo di essere di pulito e vogliono capire dove metterlo però nel momento in cui vanno a piazzare Hellblade a maggio per me maggio è un periodo molto interessante cioè Indiana Jones secondo me è roba di settembre ok? che mi fanno Indiana Jones a settembre a World d'Ottobre e Stalker 2 tra novembre e dicembre cioè per me Indiana Jones non è stato riuscito non è stato rinviato? no Stalker 2 non ha scusami aspetta forse c'è ragione aspetta un attimo e il 5 settembre è stato rinviato in autunno comunque sì 5 settembre l'inviato è rinviato perché però ricordavo un autunno del 2024 invece hanno già dato quindi l'Europa però ricordiamo che Award è Award Stalker 2 è un titolo dei partner quindi Stalker 2 è una nicchia una cosa per me Microsoft può anche dire esce il 5 settembre Stalker 2 e perché non piazziamo Indiana Jones metà settembre fine settembre cioè per me Indiana Jones è pronto per me devo solamente capire dove metterlo intanto ecco facciamo così direi di sentirci anche con l'audio italiano il trailer di Indiana Jones e poi ne parliamo quindi mettiamo anche l'audio ok io giocavo con voi dice Witcher e poi ne lo aumentiamo e state chiedendo se forse non sarebbe stato meglio trovare una ragione di vita invece di finire qui morto e dimenticato tra le sabbie dell'Africa ottimo i miti la storia solo modi diversi di interpretare il passato millenni di pensieri e credenze dell'umanità perduti e seduti in attesa di essere ritrovati non puoi sempre scappare dai tuoi problemi Indiana sta a vedere nel corso della storia l'umanità ha costruito in vari luoghi dal grande valore spirituale tracciando una linea che li attraversi tutti uno per uno intorno al globo si ottiene un cerchio perfetto io ho già avuto a che fare con questo problema credimi non è stata una passeggiata bene allora vediamo se riesce a stare al passo come sarebbe a stare al passo padrono degli angeli caduti protettore del del circulus dell'antico cerchio ti rendi conto di quanti secoli aveva perfetto ok 2024 innanzitutto prima di entrare nel dettaglio del gioco orgoglio italiano Alessandra Mastronardi quindi comunque che non solo ha dato le fattezze a Gina ma quindi alla coprotagonista ma ha dato sia la voce nei doppiaggi inglesi sia in quello italiano tra l'altro c'è anche hanno parlato di Maurizio Melluzzo io non ho riconosciuto la sua voce magari ho ascoltato male ma c'è anche Maurizio Melluzzo nel doppiaggio in lingua originale Indiana Jones verrà doppiato da Troy Baker che scelta è stata ragazzi io vi chiedo che scelta è stata poi parliamo del gioco più nel dettaglio oppure se vi aspettavate Harrison Ford a doppiaggio allora sinceramente a livello di doppiaggio almeno con l'originale secondo me è tanta roba anche perché comunque io di solito cioè il 95% dei giochi li gioco in lingua originale quindi comunque mi sembra d'ottima fattura se parliamo comunque di doppiaggio in italiano se ci sta Maurizio Melluzzo io penso che comunque sarà una garanzia perché per quanto riguarda i doppiatori italiani è uno dei migliori secondo me per quanto riguarda non solo i videogiochi ma anche per quanto riguarda film e anime di conseguenza non ho diciamo troppi problemi se lo dovrò giocare anche in italiano e quindi sì secondo me a livello di doppiaggio sono cioè è tantissima roba però rivedendo il tra l'altro il gioco allora perché Alessandro ha detto che verrà rimandato nel cioè non uscirà quest'anno secondo cioè più che altro secondo me la vedo in due diciamo in due direzioni o lo rinvio come ha detto come ha detto appunto Alessandro o esce quest'anno anche perché ricordiamo che l'IDTech comunque è un motore grafico molto diciamo non dico molto facile da da utilizzare ma praticamente ci gira dappertutto l'IDTech cioè pensare a Doom Eternal per esempio che ti diceva appunto la versione l'ultima versione dell'IDTech ci girava dappertutto praticamente anche sotto sta pane quindi a me sembra tra l'altro molto simile graficamente a Wolfenstein per esempio The New Colossus cioè io ho visto molte cose prese anche da lì assolutamente vabbè che Machine Games quindi è chiaro però devo essere sincero io mi aspetto che esca per la fine di quest'anno cioè secondo me uscirà a dicembre la butto lì il periodo natalizio sì ma la questione a parte l'uscita la questione che tipo ci tratta di un bel gioco di un buon gioco oppure di un gioco che diciamo scontenta le persone perché io se la vedo a mio avviso cioè io che non ho il palino per gli FPS mi sarei aspettato cioè quando uno pensa a Indiana Jones pensa comunque ad Uncharted perché? perché Uncharted Tomb Raider sono dei titoli come sono stati plasmati dal mito di Indiana Jones quindi nel momento scusami però il rischio il rischio il rischio è fare un clone cioè il discorso è che per quanto Indiana Jones di prima persona faccia molto strano perché comunque dovrebbe essere nella mente di tutti un action perché arriva da dei film d'azione film nati comunque per vendere giocattoli quindi ricordiamo sempre di queste cose che ogni brand di LucasArts è sempre stato fatto per vendere materiale in marketing questo non c'è niente di male fare quindi sono personaggi creati per instaurare più ritorno possibile non solo dalla pellicola originale tu pensi che è un gioco d'azione in realtà la scelta è molto interessante perché prende tutto quello che ha fatto Machine Games lo reinventa perché prima di questo se non vado errato tutti i giochi vecchi di Indiana Jones ma adesso faccio una ricerca e ve lo confermo e ve lo smentisco erano solo avventure grafiche quindi in realtà il loro rischio era fare una copia di Uncharted perché adesso Uncharted è riconosciuto come quella cosa come quel tipo di gioco no? come l'è riconosciuto Braver e quindi buttarlo nel mezzo qui pur essendo un gioco che a me onestamente non mi attira per la sua di gioco però ci vede di dover fare una cosa che richiamo con un brand che è fortissimo e che prova ad avere anche una sua identità fondamentalmente il motivo penso sia quello perché altrimenti e io su questo ne sono abbastanza certo Todd Howard non ne sarebbe stato coinvolto neanche Bethesda cioè se Microsoft voleva fare una cosa in terza persona prendeva un qualsiasi tipo di team come poteva essere quello di Double Fine come poteva essere Double Fine e lo faceva fare loro quindi faceva fare un'avventura con tanti enigmi e dava in mano Indiana Jones qua questo io penso che sia cioè la genesi di questo progetto nasce da Bethesda Bethesda approccia Disney e poi c'è tutto il discorso prima dell'acquisizione di Microsoft sì lo stavo per dire prima 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 assolutamente prima dell'acquisizione di Microsoft poi quando si tratta di dare le ultime battute avranno informato Disney che in questo momento cosa sta succedendo Disney ha dato il suo ok perché tanto cioè una volta che Disney è pagata per le licenze assolutamente a posto quindi questo è un esperimento che viene fatto per dare al gioco una sua identità che non c'è niente di male in tutto ciò però posso suggerirvi una cosa cioè immaginate il gioco preacquisizione di Microsoft ok gioco preacquisizione con la possibilità di far arrivare il titolo su PlayStation con Sony e Bethesda che comunque hanno già avuto accordi in passato vedi Deathloop magari con uno sviluppo del tiro su PlayStation War 2 perché questo titolo si presta molto bene su PlayStation War secondo me è stata persa una grossa occasione cioè con l'acquisizione di Microsoft si è persa una grossa occasione di dare comunque un buon gioco tramite la realtà virtuale perché se voi vedete in alcune sezioni sembrerebbe proprio un titolo stradatta alla realtà virtuale ma c'è un problema diciamo per quanto riguarda se tu intendi un gioco per PlayStation War 2 tu intendi questo? no io intendo un gioco come Resident Evil anche anche per VR non solo per VR cioè se tu acquisti su una PlayStation puoi giocare anche in realtà virtuale non ho detto solo per la VR poi esce su PlayStation 5 esce su Xbox esce su PC quella è tutta un'altra cosa sì però secondo me sarebbe stato anche uno spreco di risorse ma perché la base installata di PlayStation VR attualmente non dico pochissima ma ma quasi ci arriviamo perché comunque ricordiamo che PlayStation War 2 non ha cioè quanto ha venduto adesso adesso non mi ricordo il numero esatto però su PlayStation War 2 di là l'application deve uscire per far vendere le sue misure cioè altrimenti diventa un film da quando è uscito PlayStation War 2 ragazzi? un anno quasi un anno un anno e non abbiamo praticamente quasi niente in mano se non i titoli di lancio come Horizon Call of the Mountain ma perché questo adesso si continua a battere questo chiodo che in realtà virtuale sia la next big thing dei videogiochi io vi dico provate a giocare con un visore a a Uncharted che sono 8 ore il primo a Uncharted che sono 8 ore ci immagino di giocare 8 ore con sto coso in testa non ce la fa cioè è una roba che è impossibile è impossibile l'unica gli unici che sono riusciti a fare una roba più dritta sono quelli di Valve con Five Alyx basta no tra l'altro sì 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 infatti proprio a livello di FPS c'era anche quello per PlayStation War 2 Farpoint che è stata anche una bella esperienza dove sei sincero ma non sono 20 ore sì lo so che non sono 20 cioè il problema è questo generazione qua ne dura 25-30 te lo ve lo dico è palese che è un gioco molto lungo e non si può giocare non si può giocare per più di due ore con quella roba lì quindi farlo uscire su VR vuol dire a parte vuol dire castrarsi completamente le vendite perché quasi nessuno è disposto a spendere quei soldi di per un visore sì dopo dieci anni attenzione io non avevo detto di uscire solo su VR ho detto anche per no no anche anche però comunque se tu sviluppi una modalità VR tu devi comunque cioè devi fare una cioè devi come dire mettere dei soldi comunque per fare questa modalità cioè non è che comunque ti viene fuori gratis ecco quindi no 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 posso che fare una modalità di questo tipo lasci normale appunto i giocatori solo godono ugualmente è buona però per me una volta che l'hanno fatto in prima persona si poteva sfruttare questa cosa ovviamente dopo l'acquisizione di Microsoft no l'altra domanda voglio porvi è questa allora gli amanti dei titoli a lanciarti dalla Tomb Raider e coloro che invece non sono molto affini agli FPS come hanno preso la cosa del titolo completamente in prima persona ma secondo me allora non cioè io sono amante degli FPS lo sai benissimo però io non ci vedo nulla di male cioè non ci vedo nulla di male anzi io non vedo l'ora che esca ma li sto parlando mettiti nei panni di chi invece non adora gli FPS mettiti nei miei allora c'era l'esercito in casa c'è nel senso ragazzi cioè non è un FPS questo Indiana Jones nella sua diciamo è un titolo in prima persona dove ci sono ovviamente delle sezioni in terza persona ok però cioè questo appunto non è un FPS io lo vedrei come appunto è un action adventure in prima persona in prima persona vero quindi io ok sono d'accordo anch'io che sarebbe magari stato cioè sarebbe stato meglio se fosse stato in terza persona ma come ha detto Alessandro e Machine Games Machine Games sono diciamo portati per le esperienze in prima persona di conseguenza se Machine Games cioè se questo progetto è stato affidato a Machine Games se comunque è stato fatto in questo modo c'è un motivo perché Machine Games è conosciuta per titoli in prima persona no però Mattiano scusami io non sono convinto di questa cosa cioè non è che il progetto è stato affidato a Machine Games il progetto cioè nel Mentor Award chiede a Machine Games di fare una demo da presentare a Disney perché sa che probabilmente è l'unico modo per avere la licenza perché sennò facevi un clone di Uncharted cioè che sembra una cosa assurda in questo momento quindi c'è il gioco non è che nasce con l'idea di dare la Machine Games non è che il gioco c'è Bertessa vendrà la licenza e più lo darà Machine Games il gioco secondo me nasce proprio con l'idea di offrire una roba che sia diversa ma è la stessa cosa che ha fatto Ubisoft con Star Wars cioè praticamente avranno fatto una demo dicendo guarda noi siamo in grado di fare questo questo titolo story driven su Star Wars hanno presentato una demo e hanno ottenuto la licenza perché comunque non penso che Disney e LucasArts diano licenze così per beneficenza per questo appunto perché io vi ricordate anche quando è uscito Tomb Raider io mi ricordo moltissimo quando è uscito Tomb Raider che tutti hanno cioè molti dicevano eh ma è la copia sputata di Uncharted ma stai parlando ovviamente del Tomb Raider sì sì del dell'ultimo ovviamente no no chiaramente chiaramente è chiaramente esatto perché prima allora prima quando è uscito Uncharted è una scopiazzata di Tomb Raider quando è uscito Uncharted eh ma questa è una scopiazzata il reboot è una scopiazzata di Uncharted ora che comunque questo titolo è un cane che svolge la coda non è tra virgolette Tomb Raider ok io non vedo diciamo il motivo per cui lamentarsi più di tanto un'esperienza in prima persona che sicuramente a me possiamo dire che questo non è la propria di nulla tante cose da fare quindi diciamo non vedo il lamentarsi troppo per questo progetto di Machine Games no per me la scelta per me non è delle migliori ma è un parere personale cioè nel senso io avrei preferito vederlo in terza persona è un po' come con Ghostwire Tokyo che io speravo fosse in terza persona e penso lo sperassero anche l'ha fatto lui recensione vero su Games Village l'ha fatto da Marco Lucio vero? non ricordo troppo perché anche lui mi diceva no credo che non l'abbia fatta Marco Lucio proprio perché eh no perché lui soffre di motion sickness cioè però sono scelte alla fine che si riflettono poi molto bene nel tipo di gameplay che vuoi dare al gioco e nel tipo di identità che vuoi dargli perché a me lo Star Wars di Ubisoft ad esempio non mi dice nulla se non cioè per tutto quello che c'è se non per l'identità ok ma lo sai perché Ale perché la gente si aspettava di vedere The Division nell'universo di Star Wars secondo me questo è il problema no però The Division nell'universo di Star Wars non funziona se non vado errato no dovrebbe essere quello di quello di quello di Ubisoft di Star Wars dovrebbe essere eh sui cacciatori di taglia no? sui cacciatori di taglia però è story driven eh ok allora a me a me interessa quella roba lì perché c'è la Star Wars è deciso che Electronic Arts ha deciso di cannare di uccidere eh che era quel gioco del cacciatore di taglia quindi già a me quello interessa molto di più di un FPS di un FPS di un FPS banale o di un TPS eh alla di Indiana Jones questi hanno semplicemente detto questo è l'unico modo che abbiamo per cominciare Disney a lasciarci la licenza e provare a fare qualcosa di veramente diverso rispetto a quello che hanno fatto i competitor poi se proprio vogliamo dirla tutta no e diciamola tutta diciamola tutta vai magari qualcuno dice eh però no perché andrebbe giocato in terza persona no allora a questo punto tornevo all'inizio 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 all'origine e facciamo una bella avventura testuale perché io la lista sono andato a recuperarmela di giochi di Indiana Jones no facciamo una bella avventura testuale ok che si chiama facciamo Indiana Jones in Revenge of the Anches che era un'avventura testuale per per Batingtosh ok assolutamente cioè secondo me alla fine facciamo quello allora bene se vogliamo gli originali facciamo quello nonatemi detto ciò allora in realtà noi abbiamo visto questo evento che comunque ha proposto quattro titoli o mana ripeto non lo metto abbiamo parlato su Indiana Jones vabbè ma comunque abbiamo parlato abbastanza anche degli altri prima allora ci sono stati quattro titoli mana non lo metto perché è multipiattaforma secondo me ci sarà anche cioè secondo me ci sarà l'evento del briefing Xbox e Bethesda Showcase magari lo faranno anche con Activision quindi comunque ci aspettiamo altri annunci magari altre uscite nel corso dell'anno proposte durante l'evento di giugno prima di passare al prossimo argomento io voglio dirvi una cosa basandoci sull'evento di ieri tra la Sony e comunque Nintendo i direct li fa quando vuole lei quindi comunque Nintendo sicuramente non entra in bagarre con Microsoft per rispondere ecco tra poco ci arrivo per rispondere all'evento di Microsoft Sony deve rispondere quanto prima con un evento e soprattutto cosa deve proporre in questo evento cerchiamo di essere troppo lunghi però ditemi la vostra allora quanto prima sinceramente non lo so perché come aveva detto anche il sottolineato Marco Lucio l'altra volta perché comunque loro hanno Final Fantasy e The Rebirth però a parte questo cosa hanno i DLC di Final Fantasy 16 cioè perché deve uscire l'ultimo l'ultimo credo 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 DLC di Final Fantasy 16 e poi cosa c'è in sviluppo ma adesso è il 2025 ah le 2025 in avanti cioè per me sapete qual è il problema per me Sony non può aspettare giugno con l'evento che fanno di solito con lo State of Play di giugno oppure il PlayStation Show che si è giugno per me ci vuole a febbraio perché credo che gennaio senza per andare a febbraio ci vuole un evento dove dicono guardate che noi in realtà i titoli first party ne mostrano uno io non dico mostratene un paio non mostratene uno a febbraio un altro ve lo riservate magari a febbraio mostrate quello che esce nella prima metà del 2024 poi a giugno mostri l'altro first party che esce nella seconda metà però non posso non stare i film a guardare perché io utente PlayStation Alessandro utente PlayStation Matteo utente PlayStation qualsiasi utente PlayStation dice di first party quest'anno che cosa esce? Niente secondo me allora più probabile che se dovessero fare uno show secondo me lo vedrei più tra l'aprile e maggio però a sto punto dico a sto punto fatelo a giugno però sinceramente non non mi sento di dire che in arrivo tra poche settimane comunque un evento dove potrebbero mostrare un titolo first party grande appunto però per me invece lo devono fare lo devono fare per mostrarne a meno uno dicono magari questo è il first party che esce ad aprile e maggio perché di solito Sony che sta ad aprile e maggio il first party lo fa uscire quest'anno siamo a Mani Vute io non penso che può basare una prima metà dell'anno su Final Fantasy ma poi ragazzi una cosa Rise of the Rolling di Team Ninja esce solo su PS5 è sempre roba partner però esce questo esce anche su PC infatti lo stavo dicendo io parlo di titoli first party di first party al momento non c'è nulla ok quindi per me devono rispondere quanto prima con un evento dicendo guardate la prima metà dell'anno esce magari anche se buttano fuori con Sotsushima ok abbiamo con Sotsushima facciamo vedere a settembre ci rinviamo a giugno con l'evento però a mio avviso qualcosina per rispondere deve esserci vai Ale vai e concludi tu se esiste una lista di giochi che Sony first party al numero 24 che Sony deve pubblicare ma non c'è no no ci deve essere per forza perché mi ricordo che deve uscire una roba che si è il divers ma il divers è minore il divers è scena no no ma non mi interessa io voglio ci sia una lista c'è della roba che è confermata per il 2024 no non c'è no non è possibile te lo assicuro io non c'è nulla di confermato il 2024 fidati di me non c'è ecco perché sto dicendo che a febbraio devono fare un evento ok allora non lo fanno ma te lo dico io perché perché semplicemente questo guai è tutta la realtà di Jim Ryan ce l'ora probabilmente a un certo punto qualcuno nel board ha deciso di prendere e dire va bene adesso noi facciamo 20 games a service questi 20 games a service non stanno funzionando secondo me li hanno cancellati tutti a tappeto ecco esatto quindi c'è un problema che quest'anno è vuoto perché Wolverine non esce Wolverine è roba 27-28 Wolverine non esce il nuovo gioco di Santa Monica non esce l'altro l'anno scorso ma neanche Geriglia c'ha qualcosa Geriglia Mango c'ha niente quindi Geriglia non ha niente allora secondo me posso fare Domenico la sfera di cristallo posso fare la sfera di cristallo io prendo la mia sfera di cristallo invisibile e dico quest'anno avremo Sucker Punch e Sony Band per me questi due studi hanno qualcosa per me sì quindi magari prima metà c'è Sucker Punch prima metà c'è Sony Band e seconda metà Sucker Punch però sai qual è il problema Domenico io ti darai ragione sulla sfera di cristallo se non fosse che tutti Sony ha sempre fatto delle campagne pubblicitarie di Macri almeno un anno e mezzo sì anche quello dall'annuncio alla pubblicazione se ne è passato un anno e mezzo secondo me comunque quest'anno più che altro Sony è un cioè più perché come ha detto appunto Domenico Marzo se ne andrà a Ryan e subentrerà appunto un'altra persona momentaneamente da quello che ho letto momentaneamente quindi secondo me quest'anno Sony è un pochettino un anno secondo me da sì sarà un anno ok vediamo un po' cosa riusciamo a fare però almeno un titolo forse parti AAA deve uscire io ne ho chiesti due almeno uno fatelo uscire Concord Concord e Firewall perché no ma per forza ma perché adesso cioè è abbastanza logica è palese come cosa poi chiudo perché se la loro strategia era facciamo dieci game as a service e un single player no è chiaro che quel single player che è in lavorazione è Wolverine ed è chiaro che gli altri giochi non possono più uscire se c'è un cambiamento però Ale c'è stato c'è stato il leak c'è stato il leak di Insomniac Games dove in pratica c'è l'hanno già detto cioè loro stanno lavorando Spider-Man addirittura un titolo di Venom c'è Wolverine ma Wolverine e Robert addirittura 28-29 c'è c'è Naughty Dog è rimasta quattro anni ferma su un multiplayer ma no 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 perché quelli che sono stati licenziati da Naughty Dog erano quelli che stavano sviluppando il multiplayer cioè Naughty Dog sta sviluppando altri tre titoli in contemporanea capisci? ma non possono essere pronti per quest'anno e no non sono pronti per quest'anno perciò io ho detto secondo me visto che per fare tutto il giro abbiamo Sacred Punch e abbiamo Sony Band poi magari c'è Bluepoint che è stata acquisita che se ne esce con un titolo loro o con un altro remake però questo lo scopriremo prossimamente detto ciò io direi di passare al prossimo argomento perché è un altro argomento molto molto fizzantino e sicuramente qui ne avremo tanto da dire perché dobbiamo parlare di The Day Before ragazzi The Day Before l'apocalisse vissuta dagli utenti in realtà l'apocalisse vissuta dagli utenti non è qualcosa che c'entra col gioco ma è qualcosa che c'entra con quella che è accaduta attorno al gioco breve storia quindi breve storia triste su The Day Before The Day Before è stato un titolo che quando è stato annunciato 3-4 anni fa era stato annunciato come messia sceso in terra il titolo che mischiava l'ambientazione di The Last of Us con le features di The Division quindi il gioco definitivo MMO cioè da queste premesse il gioco è diventato i due titoli più attesi in assoluto ok titolo sviluppato da Fantastic studio di sviluppo che non ha fatto niente non ha fatto proprio niente noi però più abbiamo visto trailer e gameplay più abbiamo notato in realtà anche Alessandro abbiamo assistito a uno delle dei loro reveal e c'era qualcosa che non andava cosa è successo con The Day Before l'ultimo trailer con l'annuncio della data d'uscita già aveva destato alcuni sospetti perché il gioco sembrava avere comunque meno comunque meno feature da MMO è più un titolo differente quando The Day Before è stato pubblicato quindi il gioco è uscito effettivamente l'applicazione c'è stata il giorno dopo Fantastic ha chiuso Fantastic ha chiuso hanno detto la motivazione principale è che non avevano soldi per mantenere i server per continuare per garantire altri contenuti e che il gioco man mano man mano sarebbe andato scemando e avrebbero chiuso anche i server adesso gli utenti che hanno acquisito il gioco che hanno acquistato il gioco sono stati rimborsati in toto quindi non soltanto quelli che l'hanno provato soltanto per una su Steam ma Steam ha rimborsato tutti gli utenti che hanno acquistato il gioco quindi comunque se c'era in atto qualsiasi cosa gli utenti sono stati rimborsati detto ciò però e adesso voglio chiedervi innanzitutto come avete vissuto dall'annuncio alla pubblicazione di The Day Before perché perché di recente è uscito una notte di recente qualche settimana fa uscita la notizia di uno degli sviluppatori che ha lavorato al gioco ha detto guardate che questo era un extraction game fin dall'inizio cioè il gioco non è mai stato un MMO nonostante Fantastic lo abbia comunque tra virgolette venduto comunque l'abbia cercato di appiopiare gli utenti come MMO alla fine è uscito un titolo brutto senza senso tra l'altro con ambientazione tutta acquistata dai pacchetti a real senza neanche essere modificati presi e inseriti nel gioco cioè secondo voi di cosa si è trattato si è trattato del tentativo di far uscire comunque un titolo e poi sistemarlo nel corso del tempo del fatto che noi si sono accorti che non avevano le risorse economiche per finirlo e quindi l'hanno fatto uscire e poi hanno dovuto dichiarare bancarotta oppure tutto quello che hanno fatto oppure diciamo che hanno tentato comunque di prendere qualche fondo magari qualche publisher e poi far uscire un titolo e comunque non era quello che avevano promesso allora allora vai tu Mattia allora allora io sono d'accordo sul fatto che questo gioco non doveva uscire obiettivamente parlando perché già dal primo trailer comunque io subito sono andato sul portfoglio dell'azienda e lo stesso modus operandi di Day Before l'ha fatto con il primo titolo che era una sorta di FPS che è stato abbandonato quasi subito da Fantastic quindi già le premesse comunque non erano delle migliori almeno le mie perplessità erano tante sul modus operandi dell'azienda anche perché c'erano anche dei rumori interni di Fantastic che diciamo non dicevano cose molto positive appunto della della compagnia diciamo che dagli ultimi gameplay dove sostanzialmente se tu mi fai tu mi dici ok un MMO dove sei in queste città ci sono tanti zombie a malapena sei fortunato se ne becchi uno hai la fortuna praticamente dici magari su Day Before wow fantastico ho beccato uno zombie cioè sono fortunato cioè capito il problema di base è che loro secondo me volevano creare cioè volevano sviluppare un gioco PvE PvP quindi gli elementi PvE erano gli zombie ma ti voglio fermare un attimo ma non ti tolgo la parola ci spieghi un attimo che questo è un extraction game extraction shooter dove sostanzialmente tu c'hai questa mappa tu vedi come una sorta di battle royale ok dove tu incontri altri giocatori ci sono anche ovviamente degli elementi PvE quindi hai per esempio un escape from Tarkov hai anche i nemici sostanzialmente gestiti dagli A sostanzialmente tu ovviamente dai nemici puoi luttare anche su code è stata fatta una cosa del genere anche se non è più supportata che DMZ DMZ appunto grazie DMZ dove tu praticamente lutti ok e quando dici ok voglio andare ad estrarre vai nelle varie zone di estrazione vai con l'elicottero e quello che hai preso appunto tu poi te lo ritrovi quindi la zona dell'edito di vision ti trovi sì sì esatto diciamo che il concept si è diciamo l'ha fatto praticamente Ubisoft però si è evoluto grazie per esempio Tarkov perché per esempio Tarkov se tu c'hai degli equipaggiamenti ma tu vieni ucciso da un giocatore tu poi degli oggetti che hai preso non ce l'hai più sì non ce l'hai più come è stato appunto The Cycle che io avevo portato The Cycle Frontier ok la stessa cosa perché quello era un extraction shooter con degli elementi più con le bestie aliene ecco con elementi ovviamente pvp dove incontravi i giocatori ok fermiamoci un attimo fermiamoci un attimo era quella che aveva promesso Fantastic no Fantastic cosa aveva promesso no Fantastic aveva promesso un MMO dove ci sarà da fare questo ci sarà da fare quest'altro no infatti io se vi ricordate all'inizio ho detto cioè io lo vedo difficile questo gioco perché prima di tutto per fare un MMO devi avere veramente tanta conoscenza nell'ambito non solo del game design ma proprio per quanto riguarda l'infrastruttura poi per i contenuti post lancio e quant'altro perché se no poi la community ti dice oh senti abbandoniamo sto gioco e ce n'andiamo infatti per esempio uno secondo me dei migliori giochi che ha un buon dei buoni contenuti post lancio proprio anche se è un gacha è Genshin Impact anzi sono Genshin Impact e Yonkai Star Rail che comunque danno una base ok non solo di di PG ma anche a livello di contenuti anche a cioè sono dei giochi secondo me mostruosi per quello che riescono a fare quindi se tu non hai già le basi secondo me sul creare un gioco di questo tipo non dico che deve essere Yonkai o Genshin ok però se tu già mi dici dichiaro bancarotta dopo quattro cos'è dopo quattro giorni dopo tre o quattro giorni no Matti è il giorno dopo il giorno dopo dell'uscita no bancarotta cioè che hanno chiuso loro hanno chiuso il giorno dopo non è altri quattro giorni no no il giorno dopo mi sembra tre o quattro giorni che erano passati no il giorno dopo è stato il giorno dopo ok perché 24 ore dopo c'era l'immagine sul forum c'era una dichiarazione sul forum che dicevano che lo sviluppo è intenzionibile avevano visto a zero e non potevano appostinare che poi appunto parlando proprio di David Before io l'ho vista dall'esterno perché non ci non gli avrei mai spesi questi soldi perché questo gioco io l'ho già detto questo diciamo non cioè puzza puzza di flop gioco flop ok sì e perché vedendo gli ultimi gameplay dove sostanzialmente vedi uno zombie non vedi praticamente niente vedi solo il pg che cammina per la città dico questo secondo me sarà un flop e quindi dico non investimi i soldi ma io non pensavo che la situazione fosse così pessima perché il gioco da quello che ho capito si basa sui server ok tu praticamente ci sono questi server dove tra l'altro c'erano alcuni server da quello che ho visto dove c'era praticamente l'iconcina verde dove dice ok questa ha una connessione decente cioè è stabile come server ma in realtà laggava tutto alcuni si sono ritrovati con i progressi azzerati cioè alcuni si sono trovati con gli npc che non funzionavano c'era letteralmente tutto il gioco era rotto c'hai capito qual è il problema e io dico anche a quelli ma un controllo di qualità sul gioco lo vogliamo fare non si può fare perché adesso facciamo così mattia adesso facciamo interviene alessandro alessandro mattia ha detto mattia ha detto controllo qualità e adesso invece a te chiedo cosa è successo secondo te veramente con day before niente hanno fatto hanno fatto quello che ha fatto Hello Games quelli che fanno in tantissimi il problema è che Hello Games non l'ha fatto chiaramente in cattiva fede ma per l'esperienza e questa cosa me l'ha sostenuto un mio amico a cui abbiamo parlato e potrebbe essere l'ipotesi più versibile non lo ridera va bene noi non abbiamo niente in mano facciamo uscire una roba di frettissima facciamo i primi soldi speriamo non se ne accorgono in troppi non troppi vengono a chiedere il rimborso e lo gestiamo man mano negli anni sì il problema è che è una piatta troppa troppa ma secondo te loro si aspettavano che Steam rimborsassi anche chi ha giocato per più di un'ora sì perché fondamentalmente come hanno spiegato tanti Steam trattiene i fondi per 30 giorni quindi fondamentalmente in realtà il problema qui non è il rimborso perché il gioco non ti è piaciuto è il rimborso perché è una pubblicità ingannevole perché fondamentalmente tu l'hai continuato a chiamare MMO hai chiamato le PvE no PvP PvP VE e non era alla fine niente di tutto ciò no c'era un next session shooter c'era come se io ecco è un po' come le pubblicità che vi capitano sul telefono mentre scorrette Instagram o Twitter o su YouTube dove c'è quello mino che spara con gli endless shooter dove sparano i barili non so e poi in realtà sono completamente diversi sono non sono delle truffe in realtà sono delle esche per farvi scaricare il titolo loro lo sanno perfettamente che una buona parte delle persone sul cellulare quello disinstalla però si spera che poi gli intotti pubblicitari coprano abbastanza abbastanza diciamo quella parte lì la stessa cosa secondo me è andata con dei report però apro una parentesi perché se Steam ha rimborsato comunque tutti gli utenti magari che ha acquistato il titolo su altre piattaforme e l'imposto non ha ottenuto quindi comunque loro un minimo di entrata l'hanno avuto perché io non penso che piattaforme tu mi sei sicuro perché comunque si parlava il conto su altre piattaforme un piccolo interno non ce l'ha stata no ne sono sicuro ma ti spiego ma cioè spiego anche il perché fondamentalmente loro hanno venduto le chiavi a queste piattaforme quindi un piccolo intretto ce l'hanno avuto no? sì però ok se però loro hanno deciso di vendere le chiavi per conto loro il 99% di queste piattaforme ma questo se lo dico io perché vabbè cioè il mio lavoro vendo online tu dici il 90% di queste piattaforme e lo fanno tutti loro trattengono i soldi cioè devi essere tu a fare il bonifico in uscita ma il bonifico in uscita non lo fai dopo un giorno che hai venduto cioè ad esempio adesso ebay viene trattenuto l'importo per circa due settimane ok su altri siti dove invece vendo molto spesso il nostro sito erogarmi i pagamenti una volta che l'utente ha confermato che quando ha acquistato ok non ha non ci sono stati problemi quindi ti posso garantire che loro hanno fatto zero probabilmente la loro speranza era quella fondamentalmente che se erano fatti dei calcoli interni mi hanno detto va bene magari vendiamo due milioni di copie no ragioniamo nei numeri che è più facile vendiamo 4 milioni di dollari togliamo il 30% di steam no quanto resta adesso facciamo finta che diretto resti un milione e mezzo di quel milione e mezzo no ok di netto 800.000 li perdiamo saranno rimborsi però gli altri 700.000 ci entrono da lì cominciamo ad aggiustare il giorno fondamentalmente hanno provato a fare questo quindi allora diciamo che da queste due parole poi chiedi anche a Mattia se è d'accordo di base non c'è mai stata malizza loro volevano far uscire questo gioco si sono accorti che era fuori dalle loro possibilità e hanno comunque fatto uscire un qualcosa e poi sistemarlo giusto sì ma cioè non è non è una tuffa questo deve essere no no assolutamente scam loro hanno perché sarebbe stato discorso di vero se loro avessero fatto un kickstarter no assolutamente infatti io stavo per arrivare cioè non c'è stato neanche un kickstarter cioè alla fine loro hanno fatto tutto con i le loro forze economiche ecco ci hanno provato ci hanno provato hanno provato una strategia che in alcuni casi va bene e in altri casi va male qui il problema secondo me è a monte cioè il problema non è neanche steam ma è il fatto che ci fosse il bollino di invidia e l'egene first e qua poi si dovrebbe aprire tutto un discorso su come funziona l'egene first perché io come la sezione che loro abbiano pagato l'editore per essere lì ecco e quindi allora lì allora lì però bisogna rivedere le cose come funzionano posso io posso aprire una parentesi io ero in contatto comunque con fantastic con alcuni PR e alcuni loro intendi noi stavamo anche organizzando un'intervista con fantastic quindi comunque c'era loro comunque erano un vero team di sviluppo c'era questa possibilità però diciamo che dopo che abbiamo concordato di fare l'intervista e quant'altro sono spariti cioè praticamente i PR sono spariti se no dopo qualche mese ah sì scusami i sviluppatori erano molto molto occupati adesso vediamo cosa possiamo fare poi sono rispariti quindi comunque stavamo anche scusami domenico adesso lo possiamo dire sono passati non ho mai passato più di un mese l'ho uscito hai provato a prendere la chi per la recensione non ce l'hanno data ecco perché perché ti mette nell'ottica di dire io non ti do la chi te la do al lancio magari perché per loro la strada spianata era quella di fare dei soldi subito perderne una buona parte è peggio stare in carreggiata anche perché se avessero dato la chi un paio di settimane prima è come se esce in una spizza di 2 3 4 nessuno è ovvio certo no sicuramente tanto che non si era neanche di scam di qualcosa non c'erano neanche preordere aperti cioè segno che loro moltamente hanno davvero deciso hanno messo in conto vabbè dai perdiamo sti soldi facciamo sti soldi poi la giustiamo in corsa però loro almeno il gioco l'hanno fatto uscire l'hanno fatto uscire invece atti di sviluppo Abandoned da Sankaraman che addirittura sono arrivati sul play sul playstation blog proponendo il loro gioco cioè possiamo dire comunque The Day Before e Abandoned siano dei giochi sullo stesso livello però poi cioè Abandoned è stato completamente abbandonato però Abandoned secondo me seguiva lo stesso filo io chiederei a Mattia se ci abbiamo pronto il trailer di Abandoned infatti io io ho sempre detto The Day Before seppur sia stato comunque quello che sappiamo tutti almeno è un gioco cioè è un Abandoned per dove però effettivamente è uscito però purtroppo non è un Abandoned che ce l'ha fatta è appunto Abandoned però la questione Abandoned la questione è questa c'è loro hanno spinto il loro gioco sono arrivati anche su playstation blog hanno pubblicato un trailer che adesso vi mostriamo e poi hanno pubblicato addirittura un'applicazione questo è proprio l'annuncio l'annuncio ma è l'unico trailer perché blue box eccoli qua cioè loro hanno pubblicato un'applicazione su playstation 5 dove c'erano vi mostriamo il teaser trailer una demo giocabile un'altra porzione giocabile cioè io ricordo che Salvatore è andato in diretta scaricando l'app che non funzionava in quell'app hanno pubblicato un video di due secondi dove c'era un personaggio ripreso da Silent Hill 2 che camminava stop cioè poi l'app la cosa vergognosa tra l'altro cioè noi vediamo questo che cos'è che cos'è questa è una tech demo in Unreal Engine 5 no fermi 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 fermo su Domenico questo qua non è un'altra demo questo è un altro clipping asset questo è un asset presente nello story di Unreal ancora beh cioè ve lo dico io no perché lo so sì sì ma comunque si capisce anche negli intermezzi cioè questo cioè deve essere un trailer cioè ma non è un trailer un trailer comunque lo fai con con delle immagini ma non gestite a livello registico così capito perché comunque si vedono anche dalle inquadrature che è palese che non è diciamo della loro cioè che non hanno cioè non hanno fatto loro questa roba qua ragazzi però secondo me anche il nome il nome era un trollaggio cioè lo dicevano questo non è il vero nome del gioco cioè mettevano mettevano quei tweet di Asan Caramone dello studio S e finiva con L cioè cercano di far intendere che fosse un dito di Silent Hill cercano di coinvolgere anche Diokogima e poi si è distanziato cioè il problema è che secondo me una roba simile cioè all'inizio magari poteva passare come gioco reale altro però più è andata avanti più si è capito cioè invece The Day Before loro hanno proposto dei trailer hanno proposto dei gameplay c'è stato un primo gameplay dove il problema di base era anche carino il problema di base magari era lo shooting però poi io e Alessandro abbiamo assistito a quella presentazione con il centro commerciale ti ricordi Ale hanno fatto anche il trollaggio sulla data di pubblicazione sono partiti da 2028 sono scese sono scese a 2023 vabbè l'hanno inviato le versioni console le versioni console cancellate non cancellate cioè l'inviate però loro comunque davano l'idea che fosse un gioco reale Ale tu poi prima che andassimo online avevi citato anche un altro esempio ah Wild West Online che aveva sfruttato era un MMO PvP aveva sfruttato il treno di Red Dead Redemption 2 nel 2017 pubblicati negli screenshot su GTA Forums che è uno dei forum più principali sull'attività di Rockstar Games ed è spacciandolo per Red Dead Redemption 2 tempo 24 ore 48 no no ma questo qua stiamo noi facendo uno dei migliori MMO il tema può essere il risultato è che in quel caso non si può parlare di giochi incompleti zoppo di giustare le cose in corsa però si può parlare di aver sfruttato di aver fatto pubblicità ingannevole perché per la fine il gioco è uscito c'erano 4 missioni dentro il mondo era vuoto e adesso il gioco non lo puoi neanche più acquistare su Steam cioè è stato proprio eliminato non mi sembra forse vado a fare un check per essere sicuro che sia ancora disponibile sul sito dello sviluppatore però non ne sono sicuro però non so perché questa storia mi ricordo molto Babylons Fall no vabbè Babylons Fall è uscito è uscito morto anche Anthem Anthem in pratica quando è stato pubblicato aveva dei grossissimi problemi i servizi sono svuotati c'erano sempre le stesse missioni io credo che questi titoli che è Massa Service e oppure comunque questi titoli MMO o vengono sviluppati da persone che sanno il fatto loro oppure si farà questa fine cioè per me The Day Before prendiamo l'esempio The Day Before e Abandoned sono su due piani differenti Fantastic probabilmente non aveva l'esperienza giusta e necessaria e l'ambizione necessaria per pubblicare quello che loro avevano promesso hanno cercato di pubblicare qualcosa e poi come ha detto Alessandro cerchiamo di sistemarla per strada ovviamente il giochino che loro hanno fatto di prendere tempo non ha funzionato Abandoned invece è una roba che probabilmente puntava a ottenere magari qualcosa di budget da parte di qualche publisher poi magari loro il gioco volevano anche farlo cioè però mentre con The Day Before un budget per creare il gioco c'era con Abandoned loro sono partiti da zero con la speranza di ricevere qualche introito alla fine di Abandoned non si è saputo più nulla di The Day Before invece è successo quello che è successo quindi io direi una cosa come Games Village noi nel momento in cui ci saranno altri titoli simili noi cercheremo di commentare la situazione cercheremo di mettere in guardia anche i giocatori e gli utenti da queste diciamo questo problema di giochi che ci puzzano quindi noi ci prendiamo a fare questo però è sempre difficile capirlo in realtà quello che servirebbe è cominciare a scremare la cosa quindi vuol dire che PlayStation Blog non deve più prendere soldi per pubblicare gli articoli sui giochi indipendenti e la stessa cosa deve farla credo se fanno così se fanno così premetto sempre che invidia non deve più cioè come le Game Awards che comunque chiedono un contributo per i giochi indipendenti cioè forse bisognerebbe cominciare a non farlo più fondamentalmente non cominciare a farlo più o se vogliamo cominciare a farlo scrivere sopra branded content perché l'igiene però non nominiamo altri no 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 ok però è proprio l'idea è quella cioè come invidia questa cosa invidia per mettere quel gioco lì nel loro showcase sarebbe interessante capire se invidia lo fa con tutti i giochi che si vantano di avere questa feature no oppure io faccio un gioco metto la feature per avere lo spotlight su invidia devo pagare sarebbe cioè bisognerebbe capire un po' come funziona questa cosa forse no cioè perché forse una soluzione potrebbe essere quella cioè ad esempio oppure magari consegnare comunque una demo giocabile del gioco non una tech demo ma una demo reale del titolo quindi preso però lì si appano altri problemi cioè dovreste avere più o meno 27 milioni di dipendenti che provano la roba perché ne escono 200 eh vabbè lo so però comunque non è mai cominciare a capire un attimino più che realizzare demo secondo me c'è tipo delle versioni di prova cioè tipo ok poi dipende da gioco a gioco perché è chiaro per esempio prima parlavamo appunto di elblade della longevità se tu dai un'ora già comunque è già fatto un pochettino però eh la questione è sempre quella secondo me bisognerebbe fare delle versioni di prova del che già si fa tra l'altro sugli EA perché tipo su EA se tu sei tra l'altro se tu sei abbonato al Game Pass su PC ma anche penso non so su console adesso come sia la situazione eh sei automaticamente abbonato agli EA Play cosa ti fa? l'E Play ti fa provare eh ti dà delle versioni di prova di due ore se non sbaglio infatti io avevo provato Wild Hearts eh due ore e poi diciamo lo lo scaricato del Game Pass quindi lo e poi lo giocato secondo me bisognerebbe fare una cosa molto simile per diciamo per altri giochi però so che la questione è abbastanza diciamo spinosa perché bisogna anche valutare gioco per gioco ma non funziona no cioè il problema secondo me è proprio a monte cioè nel senso Nvidia fa uscire la press release dove dice ok noi siamo obbligati a coprirla no? sì per virgolette perché magari è di qualcosa di rilevante però qui poi alla fine il dubbio sorge no? cioè ma loro hanno hanno avuto un modo di verificare che tutto quello che sia stato fatto sia stato vero sia vero oppure no cioè quindi è un problema un po' complesso ed è un problema poi concludo che riguarda il fatto che nel 2023 su Steam sono stati pubblicati più giochi in assurdo dopo quando cioè poi capisci anche tu Mattia fanno controllo qualità su sta roba non si può fare cioè è impossibile impossibile bisognerà trovare delle soluzioni di alternativa ovviamente noi le possiamo trovare noi le devono trovare chi gestisce i vari stori se mi pagano le trovo ah ok magari a te me le trovo no Alessandro si è proposto chiaramente mi prendo il pago e c'è sul compenso ovviamente quindi va bene ragazzi io credo che possiamo andare in chiusura abbiamo comunque esaurito i due argomenti abbiamo parlato tanto prossimi argomenti o prossimo argomento poi vedremo abbiamo una settimana di tempo per capire cosa succede mondo videoludico venerdì prossimo dalle ore 16 ore 17 torna ai Games Village Talk io ringrazio come sempre Mattia di nulla ringraziamo anche Alessandro che ovviamente Alessandro presto ti ritroveremo nel Games Village Talk magari ce lo faremo in quattro nelle prossime volte quindi preparati se è tempo quando c'è la possibilità volentieri ringraziamo anche coloro che ci hanno fatto compagnia durante questo talk ovviamente ripeto Games Village Talk arriverà il VOD su YouTube credo verso lunedì quindi lunedì VOD di questo episodio e potete recuperare sia su Twitch qui sotto nel periodo di sotto oppure su YouTube lunedì non appena lo caricheremo velocemente il cuoricino viola è diventato i nostri follower e potete entrare anche in chat quindi per poter scrivere in chat io devo diventare almeno follower con la campanella attivare le notifiche saprete sempre quando saremo in diretta abbonamento mensile con un Amazon Prime gratuito donate a noi il vostro abbonamento mensile oppure 3 alle 99 come sempre vi passa la paura noi per oggi abbiamo completato alla prossima alla prossima ciao a tutti ragazzi